Il 7 di luglio presso il ristorante Baratov ed è una cena conviviale dove avremo la direzione artistica tra virgolette della serata del DJ Minuz e avremo dei piccoli interventi del teatro Accademia. L'Oiopra ovviamente raccoglie fondi per aiutare le persone in difficoltà, in particolare i malati terminali di cancro, li accompagna diciamo in questo percorso difficile e quindi per farlo ha bisogno ovviamente di mezzi economici importanti ecco perché in più di un'occasione, in più volte all'anno noi cerchiamo di fare questi eventi proprio per raccogliere soldi che ci servono per le attività infermieristiche, per le attività psicologiche, per le attività di supporto e di trasporto dei malati insomma per tutti questi tipi di attività e per queste ragioni noi ci adoperiamo in questo senso.